E la cosa importante è sapere in che modo oggi toccheremo il cuore di qualcuno. Viviamo semplicemente, amiamo generosamente, curiamo seriamente, parliamo gentilmente. Come Don Bosco Educatore offriamo ai giovani il Vangelo della Gioia attraverso la pedagogia della bontà. Allora ragazzi, grazie. Ciao. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.